Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo ventunesimo episodio della nostra serie di Minecraft Signori, allora, 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 prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di andare sempre più su, signori, con gli iscritti Abbiamo raggiunto una settimana fa il traguardo dei 2000 ma ho bisogno sempre del vostro supporto per continuare a crescere Signori, detto questo, è il progresso della nostra isola, delle nostre zattere, non so come cazzarò chiamarle Chiamatele voi, palafitte, continua, vedete dietro di noi il tavolo degli incantesimi fatto nello scorso video Che, signori, ha subito una grossa modifica, ha subito una grossa modifica Io ho preso le misure praticamente per fare il ponticello che lo univa e veniva una grandissima cagata Quindi abbiamo dovuto un attimo modificarlo completamente, accorciarlo, accorciare il ponticello che praticamente unisce queste due zone In modo tale che possa avvenire una cosa più carina che andremo a costruire ora subito, velocemente, rapida e in dolore Ora, aspettate perché io sono scemo, devo partirmi da quel lato che non ricordo bene le misure Però, 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 forse di un altro Forse adesso riusciamo ad andare in quella direzione, non lo so, aspettate, mi parto di là, signori Che è più facile, evitiamo di fare altre cagate, rompere altri blocchi e perdere altro tempo Che veramente non... Cioè, quando ho preso le misure ho detto, mamma mia, mamma mia, che cagata che sta avvenendo Mi è venuto il sangue freddo a dover distruggere tutto quello fatto nello scorso video Però, abbiamo mantenuto lo stesso disegno, signori, non è cambiato niente di che Siamo riusciti, abbiamo semplicemente accorciato un attimino la struttura Ok, ora mettiamo il bambù tutto a giro E così anche questa zona è unita E... aspettate, il tavolo del... la... 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 la zona del... 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 come cazzo L'incudine che facciamo oggi la facciamo di qua Quindi intanto questo ponticello, sì, lo possiamo chiudere in maniera drastica così Così lo chiudiamo, facciamo l'angolo di unione delle due zone E poi vediamo un attimino come procedere con la zona dell'incudine Qui poi tutto il bordo, signori, me lo faccio off camera Non vi... ma porca, ma porca Aspetta, ormai finisco, scusate, mi sono cascato in acqua per mettere questi cazzati blocchi E me ne risalgo, ok, va bene Dobbiamo mettere... dobbiamo mettere qualche scaletta in più di queste, signori Ovviamente è altra cosa che farò off camera Però, che ci saldano la vita, vedete, è facile Uno piglia e risale, ok Possiamo sfruttare questo snodo per andare in quella direzione a unire qualche altra cosa? Sì, penso di sì, lo faremo sicuramente non oggi, signori Sicuramente non oggi Allora, apriamo di qua, rompiamo di qua e mettiamo nuovamente il blocco così Allora, più o meno dobbiamo mantenere le stesse misure Più o meno, così potremmo anche unire il ponticello che unisce anche di qua Quindi diciamo che dobbiamo fare un ponticello di... Facciamo corto, signori, lo facciamo piccolino Uno, due, tre E giusto quattro, dai, così, così, basta, basta e avanza Poi ci manteniamo sulle stesse misure di qua Che, come abbiamo detto, devono essere Uno, due, tre, uno Compreso questo, uno, due, tre E poi il quarto di bambù Quindi uno, uno, due e tre Quindi poi qui giriamo E di quanto lo facciamo Non sbagliamo stavolta le misure, signori, per cortesia Uno, compreso questo Due, tre, quattro, cinque, sei, sette Di sette totale Per cortesia che non ne posso più di dover distruggere le piattaforme Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette totale Giriamo, ok Uno, due Uno, due e tre Quattro E poi uno, due e tre Dovremmo esserci Più o meno, pensate sì Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette E qui ci andiamo a unire Perfetto Al centro rimettiamo il bambù Come abbiamo fatto nel video Come abbiamo fatto per l'altra piattaforma Così andiamo a dare un po' di diversificazioni alle strutture E così andiamo a fare anche questa zona di qua Signori, preparatevi perché prossimo video Se me lo ricordo Andremo ad uccidere quei cazzarola di pigwe Di, 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 come cazzarola si chiama? Di, di mostriciattoli che ci hanno alla torre Non mi ricordo come cazzarola si chiamano E, vabbè, sì, ci siamo capiti Non sono i piglin Sono i villager I pillager I pillager I pillager Andremo a ammazzare i pillager, signori Quindi, prossimo episodio Ci fermiamo con le costruzioni E torneremo all'avventura Sperando di non morire male Come è successo Quando ogni volta che facciamo qualcosa di diverso Dalle costruzioni Però ci proviamo, signori Tutto questo non mi basta il bambù Che culo Va bene, va bene Quindi dovremo andare a formare A farmare altro bambù Ma comunque a prescindere Lo dobbiamo andare a fare Perché dobbiamo mettere le staccionate Che ne ho solo 39 Non penso Mi bastino mai nella vita Ci proviamo Vediamo un attivino cosa ne esce fuori Vabbè che qualcuna poi la dovremo andare a distruggere Sono scemo perché poi Devo distruggere Vabbè Superfluo Superfluo Ok Allora mi manca giusto qualche cosa di qua Vedete E poi diventa tutto pratico e veloce Andiamo di qua Andiamo di là Andiamo di su Andiamo di giù Veloce veloce Rapido E indolore Bello Mi piace Mi piace come sta avvenendo La nostra base Perché sono venuto qua Se non ho bambù Devo andare a farmare il bambù Bambù Sono venuto qui a sacrificarti Il nome della serie Dammi tutte le tue risorse Ok Pensami Bastano per fare quattro piattaforme Tutto questo Stiamo parlando Tutto il tempo Però va bene Così mi fate compagnia Mentre faccio le costruzioni Io già Vi elimino tutta la zona Della preparazione Dei materiali necessari Anche se effettivamente In questo momento Stiamo andati a cercare Dei materiali necessari Però va bene Non siate troppo puntigliosi Troppo dettagliosi Troppo precisi E troppo cosa Perché Se no Si perde La bellezza della serie Da fare così In maniera molto In maniera molto chill C'era uno bravo Che ha fatto una serie chill Ovvero il buon surri E se l'è fatta tutta così Ma ci posso andare anche di qua così Però dovresti correre Qua ci mancano sempre le carote Signori Un giorno troveremo le carote Da poter mettere qui Ho fatto tutta la circondazione Dell'Africa Per quali blocchi mi mancavano Scusatemi Qui Questi di qua Ok Mettiamo questi blocchi di qua Blocco qui Blocco qui Blocco qui Blocco qui Blocco qui E blocco qui Ok Mettiamo queste ultime Barriere di qua No cazzo la stanna Le mie torce Metti le mie torce Bravo così Mettiamo le torce Così illuminiamo il tutto Perfetto Ok Illumina 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 Ok Questa sarà una piattaforma morta Perché da qua poi partirà Un grosso ponte Che arriverà qui E qui andremo a allargarci tutto Per fare il mob spawner Signori Sì 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 Diciamo che questa sarà un'ottima Una piattaforma morta Diciamo che stiamo comunque arrivando A un buon punto di costruzione Piattaforme Signori Perché secondo me Secondo me Siamo già decisamente a buon punto Una volta che facciamo qui Il nostro bellissimo Il nostro bellissimo cosa Il nostro bellissimo Incudine Poi sì Vabbè Ci sono ancora tante tante piattaforme Da dover andare a costruire Però Però siamo a buon punto Siamo a buon punto Signori Non 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 perdiamoci d'animo Non perdiamoci d'animo Allora dobbiamo fare qualche scaletta Così me ne fai tre Mi bastano tre? Pensa di sì Pensa di sì Tre mi dovrebbero bastare Questo ce l'abbiamo Ok Che dobbiamo andare a sostituire Signori Dobbiamo fare l'incudine Dobbiamo fare l'incudine Come cazzola si faceva l'incudine? Allora di sicuro mi servono Uno Due E forse tre blocchi Se non ricordo male Mi dite Incudine Ecco Incudine Come cazzola si fa l'incudine? Con tre blocchi e tre Perfetto Quindi dobbiamo fare nuovamente tre blocchi Ok Tre blocchi così E poi Uno Due Tre E quattro Perfetto E abbiamo anche l'incudine Cosa ci mancava? Cosa ci mancava? Cosa ci mancava? Niente Per il momento penso che vada bene così Vada bene così Certo Dobbiamo arrivare fino alla sotto Però Signori la nostra piattaforma sta prendendo sempre più forma Sempre più forma Piano piano capiremo sempre di più come siamo combinati Il centro di questa piattaforma Dove? Uno Due Tre Quattro Cinque Dovrebbe essere questo Uno Due Tre Quattro Sì Uno Due Tre E quattro Sì Quindi il centro è precisamente questo Dammi la mia bellissima incudine Che la andiamo a mettere così Sbam Abbiamo anche l'incudine Cazzarola di una miseria Allora Scendiamo in mare Che abbiamo solo gli ultimi due Gli ultimi due aggiustamenti da fare Ovvero mettere questi blocchi così 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 abbiamo un attimino anche la base Con la base fatta giusta E la piattaforma non è volante Ok Scendi scendi ragazzo Scendi scendi Due e tre Ok Andiamo anche a farlo dagli altri lati Forse No no mi dovrebbero bastare Sei mi dovrebbero bastare Cazzarola no Dai Dai cazzarola Uno Due Due E tre Ok Mettimene anche tre di qua Prima che cada il sole Uno 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 Due E tre Ok me ne restano tre Porca miseria Me ne restano tre Aspettate io la scaletta dove la metto La scaletta la metto di qua Così siamo veloci per salire Facciamo uno E due Anzi due già mi bastano Ok così riusciamo a salire di qua E da dove cazzarola entriamo Da nessuna parte Bene 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 Dobbiamo un attimino Capire da dove entrare Mannaggia Mannaggia Allora intanto questa parte qua La apriamo Così un domani Sicuramente potremo Sistemare Facciamo uno Dai così Dai così Dai così Dai che sta callando la notte Dai che sta callando la notte Facciamo due Ok Mi manca uno Me ne manca uno Porca miseria Me ne manca uno Me ne manca uno Mannaggia 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 Detto questo signori Io però per questo video Mi fermo qui La nostra piattaforma Prende sempre più forma E Stato un video veloce Rapido E in dolore Diciamo che l'abbiamo costruita Molto velocemente Molto intuitivamente E Abbastanza bene L'incudine è sistemata Gli incantesimi ce li abbiamo Dobbiamo solamente dare Da mangiare alle mucche E continuare nella nostra Esplorazione Detto questo signori Vi ringrazio per la notte Vi ringrazio per il like Per i commenti Per il gente Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao